Roberto Broccolo, sindaco del comune di Orbisai e in provincia di Macevato. Ci troviamo qui a Lanci a discutere delle problematiche relative ai piccoli comuni, grazie anche alla collaborazione di Orton e di Estituti, dell'IFE, dove si occupa di queste tematiche. Le problematiche che più interessano le piccole realtà sono soprattutto l'usicoltà quotidiana che stiamo vivendo in questi anni, sia con il taglio religio, ma anche e soprattutto con le riforme alle quali dobbiamo comunque partecipare. Il federalismo fiscale potrà essere sicuramente un'opportunità soltanto nel momento in cui siamo messi in condizione di poter scegliere anche come tassare i nostri giuttadini, offrendo loro anche delle risposte concrete con i soldi che chiederemo ai nostri giuttadini. Ancora queste possibilità lo Stato centrale non ce ne ha consentite, anche perché il taglio del digito, oppure una tassa sicuramente che non piace pagare, ma era l'unica tassa sicurale di agonito pubblico, cioè il sindaco e le realtà boicari possono comunque fare delle opere, chiedere ai loro giuttadini i sacrifici necessari per realizzare, dalle strade, alle scuole, alle infrastrutture, i beni pubblici, ai servizi che sono indispensabili per le realtà. Speriamo che con il proseguo queste novità fiscali, le novità legislative alle quali saremmo chiamati a dare un contributo, possano darci anche gli strumenti più concreti per dare risposte concrete ai bisogni dei nostri giuttadini.